E allora ci siamo, ve lo avevo già preannunciato, ci ha raggiunto nei nostri studi Carol Cordella. Ciao Carol, ben trovata. Ciao, ben trovata a voi. Come stai? Forse un po' stancano, reduce da tanto lavoro. Sì, dai, è gestibile la stanchezza. Beh, anche perché i risultati sono tanti, successi anche, quindi oggi parliamo proprio di questo, di questo bel percorso, che è l'ultimo anno di lavoro del tuo istituto, e l'istituto, lo ricordiamo, l'istituto Cordella, l'International Fashion School, che ha sede a Lecce, da qualche tempo ha sede anche a Roma, quindi siete sbarcati anche da un po' nella capitale. E oggi parliamo proprio degli ultimi risultati raggiunti. Prima però di fare questo, io vorrei fare un passo indietro, perché secondo me, vista l'importanza della vostra realtà che nasce qui nel sud, io vorrei soffermarmi un attimo sulla storia dell'istituto, perché ha una storia molto antica che addirittura risale alla fine del 1700. Esatto. Nasce come Sartoria, ma ci vuoi raccontare un po' come nasce la Sartoria Cordella e poi come diventa l'istituto di moda che è ora? Allora, la Sartoria nasce, come dicevi, nel 1783, inizialmente in Toscana, poi si sono spostati giù in Puglia e da lì la tradizione sartoriale in famiglia non si è mai fermata. Noi siamo l'ottava generazione che fa questo lavoro e ovviamente poi durante tutti questi anni si è un po' poi anche trasformato il lavoro, di cui poi l'ultima fase è la scelta che abbiamo fatto io e mio padre e mio fratello, di dedicarci alla formazione, perché lavorando con tante aziende la richiesta di personale formato era tanta e quindi abbiamo deciso di dedicarci a questo. Che è un lavoro bellissimo, fantastico, perché si sta a contatto con dei ragazzi che hanno un'energia veramente incredibile. Ma quali sono i corsi che solitamente avviate presso il vostro istituto? Allora, noi siamo l'unica accademia riconosciuta dalla regione Puglia, quindi sono dei percorsi comunque accreditati dalla regione a validità europea, quindi in base a quello noi siamo anche al passo con quello che è un programma internazionale. Noi formiamo prototipisti e modellisti e una delle più ricercate è quella dell'art director, che è questa figura che a 360 gradi si occupa del brand. oltre ovviamente a fashion design e tutta la parte di immagina. Beh, diciamo che siete diventati un vero e proprio punto di riferimento, ma quanta fatica c'è dietro? Perché io credo che diventare un istituto di tale importanza come appunto l'istituto Cordella, beh, dietro ci sia veramente tanta fatica e non mancano sicuramente le sfide, anche perché stiamo parlando di un ambito molto particolare che è quello del fashion, della moda, della sartoria. Guarda, le sfide ci sono e penso ci saranno sempre, non solo anche perché un po' la localizzazione, no? Un po' ci in qualche modo penalizza anche se devo dire che fortunatamente ormai dopo il Covid, anzi queste cose, queste barriere geografiche si sono completamente abbattute. Le sfide sì, sono tante perché comunque ogni giorno noi ci interfacciamo con dei ragazzi che hanno comunque dei forti temperamenti, quindi l'obiettivo è proprio quelli di formarli per quello che sia il mondo aziendale o anche per quello che poi è un percorso imprenditoriale e personale. Il nostro riscontro, il lavoro è duro perché per noi il riscontro maggiore è quando poi abbiamo le aziende partner che ci seguono non solo durante la fase di formazione ma poi per il post, quindi prendendo, inglobando al proprio interno i ragazzi e sono veramente tanti quelli che già sono in lavoro. Quindi si formano e poi hanno proprio la possibilità fattiva di entrare, proprio di lavorare nel mondo del fashion, questo è importante. Da settembre infatti partirà anche una collaborazione con un polio manifatturiero SPS, manifatture dove appunto stiamo lavorando per creare queste figure ad hoc da inserire in questa grandissima realtà che stanno, vogliono aprire, hanno già aperto, formata poi dai nostri allievi. Allora continueremo a parlare di questa bellissima realtà, in particolare faremo anche un po' il punto dell'evento che appunto c'è stato il 26 luglio scorso, intanto ora ritorniamo alla musica, c'è Biagio Antonacci con Lasciati Pensare. I Comacose e Malavita su Radio Punto Sud e noi siamo ancora in compagnia di Carol Cordella, stiamo parlando di questa bellissima realtà che è l'Istituto Cordella International Fashion School che ha sede a Lecce ma da un po' di tempo ha anche una sede operativa a Roma. Allora Carol, ci puoi raccontare a Roma, accade la stessa cosa di quello che accade a Lecce, ci sono gli stessi corsi, fate cose diverse, dicci un po'. No, no, diciamo la sede madre è Lecce, su Roma fondamentalmente sono corsi di specializzazione rivolti già a operatori del settore. Da quest'anno abbiamo anche attivato invece, proprio perché siamo una scuola internazionale, i progetti Erasmus con le università, quindi quest'anno abbiamo ricevuto noi degli studenti stranieri e poi inizieremo anche noi a mandare i nostri in giro per le università che si occupano anche in parte di art e fashion. Che cosa cercate di trasmettere nei vostri allievi, a di là della tecnica, proprio a livello umano e professionale, che cosa cercate di trasmettere? Guarda, quella è la cosa su cui io tengo veramente tanto, indipendentemente dalla tecnica, quello che insegniamo prima di cose è il lavoro in gruppo, perché non solo per quelle che sono le dinamiche aziendali ma proprio come lifestyle, cioè l'importanza di essere tolleranti con tutti, rispettare le idee di tutti, anche perché essendo molti creativi spesso si può tentare di far prevaricare un'idea rispetto a un'altra, quindi diciamo su quello facciamo tanto tanto lavoro, sull'umiltà del restare sempre copili per terra perché ovviamente è un settore che può abbagliare facilmente ma che dall'altro lato, dalle stelle alle stalle non ci impieghi niente, quindi sempre tanta umiltà e mai fermarsi nell'imperare perché comunque anche i grandi professionisti lo insegnano che ancora continuano a studiare. Ma come si coltiva un talento? Nel senso quando, io credo che poi ognuno dei vostri allievi abbia una propria personalità artistica che sta formando, però c'è, c'è un minimo di talento credo, no? Come vi approcciate poi al talento di ognuno? È un lavoro guarda individuale che viene fatto perché ogni ragazzo poi ha una sfumatura diversa, quindi durante il percorso già dal primo anno iniziano a identificarsi quelle che sono le, diciamo un po' più le loro propensioni e quindi noi lavoriamo molto su quello, magari chi è più portato per reparto immagine, allora cerchiamo di spronarlo su quello facendo fare magari dei progetti anche esterni all'accademia o chi è più portato invece per la parte tecnica, quindi anche le collaborazioni con delle aziende che ci occupano di quello, però veramente è come se su ognuno di loro si lavorasse a un certo punto in maniera individuale. Senti, arriviamo a una vostra caratteristica, il metodo Cordella che è stato anche brevettato, di cosa stiamo parlando? Possiamo dire che è stato forse anche il vostro segreto, il segreto del vostro successo in un certo senso. Allora il metodo Cordella è praticamente il metodo di modellistica che poi è un po' la spina dorsale di tutto il settore perché se non ci fosse il modellista nessuno di noi avrebbe un capo indosso ed è un metodo che è stato avviato da mio padre e poi è ultimato con mio fratello e che lo aggiorna continuamente in base poi comunque a tante tendenze, un po' va la vita alta, un po' la vita bassa, quindi diciamo tutto quello si modula ed è un metodo aziendale dove comunque conta la vestibilità, quindi che il capo abbia una vestibilità perfetta, quindi si lavora molto su quello, quindi che il capo sia già in fase di progettazione, un capo al 90% fatto e viene poi appunto molto utilizzato nell'azienda. Ok, allora tra poco ci addentreremo in quello che è accaduto lo scorso 26 luglio per chi è andata in passerella, ha sfilato questa collezione del vostro ultimo anno accademico e la collezione si chiama Arachnofollia, devo dire che mi intriga molto come nome, tra poco ce lo farai conoscere questa collezione, intanto ritorniamo per un attimo alla musica, c'è Ed Sheeran con Celestia. Allora, continuiamo a parlare con Carol Cordella di fashion, di sfilate e parliamo di questa collezione Arachnofollia che è stata presentata ufficialmente lo scorso 26 luglio a Lecce. Allora, già dal titolo un po' capiamo che ha a che fare con i ragni, con le tarante, no? Ci vuoi raccontare Carol come nasce questa idea? Allora, noi ogni anno cerchiamo un mood da sviluppare con i nostri allievi e quest'anno sentivamo un po' la maturità, no? Di affrontare un tema come quello del nostro territorio e mi sono concentrata soprattutto su una figura che potesse in qualche modo racchiudere non solo il nostro lavoro, le tradizioni ma anche i nostri vicini di casa che poi tutti insieme creano questa fantastica cultura che è quella, no? Pugliese, mediterranea e quindi abbiamo scelto un'altra figura del ragno che è come noi lavora la tela comunque a che vedere con un filo e poi la collezione appunto divisa in due parti, la icosa che è ispirata al ragno della taranta quindi alle nostre tradizioni e l'altra una seconda sfilata che si chiamava proprio Arachne che è ispirata all'anito di Arachne, quindi questa figura di questa creatura che unisce un po' i nostri territori, la nostra professione, quindi... Ci avete tenuto a sottolineare il vostro legame col territorio con questa sfilata? Sì, era... l'ho sentito proprio tanto quest'anno, mi sembrava un gesto dovuto a un territorio che per quanto possa essere difficile, come spesso viene anche descritto e lo viviamo però è un territorio che ci dà tante soddisfazioni, amato, viene visto con degli occhi dagli esterni favolosi quindi ho detto ok, immergiamoci anche noi negli occhi di un estraneo e vediamo con occhi diversi questo fantastico territorio tra le tradizioni, l'arte, l'archeologia, quindi tutto ciò che ruota intorno Quindi era una collezione che si componeva di quanti pezzi? Descrivici un po', facci sognare Allora, la prima collezione è la Icosa, era appunto ispirata alla taranta quindi abbiamo cercato di unire un po' diverse figure, quindi dalla tarantata quella che è anche un po' la tradizione nostra dei pizzi, dei veli, delle lavorazioni macramè ed è una collezione molto sensuale, con tanto nudo e completamente total black Beh, eh sì, immagina Mentre la seconda collezione che è stata realizzata dalle allievi di secondo anno abbiamo in particolare lavorato sul concetto della ragnatela quindi sullo scintiglio della ragnatela questo colore un po' cangiante, dal bianco all'argento al grigio abbiamo utilizzato delle pagliette che devo dire in passerella hanno fatto un effetto wow e sono veramente molto molto orgogliosa del lavoro che hanno fatto Ma c'è stata anche una parte della serata dedicata alle eccellenze del territorio come mai avete voluto premiare, cioè istituire una sorta di premio, di riconoscimento per le eccellenze del territorio? Cosa c'entra in realtà con la vostra realtà? Allora ogni anno, già da 27 anni, perché la 27esima edizione papà aveva istituito questo premio a riconoscimento dei talenti diciamo non solo legati al territorio o che comunque magari in qualche modo riuscivano a creare delle connessioni con la Puglia e quest'anno abbiamo avuto l'onore di premiare due grandissime personalità il fotografo di moda Giampolo Sgura che è per gli addetti al settore veramente un po' l'olimpo della professionalità, dell'umanità diciamo tutto ciò che racchiude e il nostro presidente Sicchi Damiani perché con grande eleganza Presidente dell'Unione Sportiva Lecce quindi avete attratto anche il mondo del calcio l'avete unito alla moda in un certo senso Sì, perché ci sembrava anche dovuto un ringraziamento appunto a Lecce che attraverso lo sport si sta facendo onore fa conoscere la nostra città e poi insieme al Napoli sono le uniche due squadre del Meridione bisogna dirlo, assolutamente allora continueremo a parlare di questo bellissimo mondo creato dall'Istituto Cordella ora c'è la pubblicità ma davvero torniamo tra pochissimo Francesco De Gregori, Rimmel abbiamo voluto rispolverare questo vecchio successo di questo grande artista italiano e noi siamo ancora in compagnia di Carol Cordella stilista, anche art director dell'Istituto Cordella International Fashion School di questa bellissima realtà ne stiamo parlando ci sta un po' raccontando quello che è accaduto lo scorso 26 luglio a Lecce con questa bellissima sfilata di fine corso accademico Arachnofollia la follia ce ne è tanto bisogna essere un po' folli nel fare il vostro mestiere sì, sì, assolutamente sennò se uno è predisposto per un lavoro un po' più pacato comunque con orari un'impostazione diciamo più formale no, non è e a proposito di follia c'è stato un video bellissimo che ha fatto una nostra allieva Alice proprio su quella che è un po' questa follia che ci caratterizza un po' a tutti la follia vi ha portato anche fuori dai confini pugliesi anche da quelli italiani voi siete tre fratelli e oltre a te c'è Manuel e Cristiana Manuel è al tuo fianco e Cristiana invece è fuori però so che anche voi avete diverse collaborazioni a livello internazionale e so che anche grazie a queste collaborazioni siete diventati davvero uno zoccolo duro del vostro campo quanto è stato importante per voi? come ce l'avete fatta in un certo senso? guarda, devo dire che la collaborazione tra tutti e tre fratelli è un po' il nostro punto di forza e si nota che siete molto uniti devo dire ognuno apporta un po' quello che è il meglio del suo settore comunque delle sue conoscenze anche infatti Cristian spesso ci dà la possibilità di far incontrare grandi professionisti ai nostri allievi come abbiamo avuto Sonia Ace che è la costumista di Fast and Furious Capitan Marvel ebbè tanta roba a settembre ha anche tenuto un incontro con i ragazzi Deborah Landis che è la costumista di Indiana Jones di Michael Jackson quindi grandi nomi che veramente con tanto piacere Cristian ci fa arrivare giù da noi in questa piccolissima città rispetto al resto del mondo e questo vi fa onore e di questo vi dobbiamo anche ringraziare perché siete in grado di portare nomi importanti del campo della moda del fashion in generale e portarli a Lecce e non è cosa da poco quindi dobbiamo anche ringraziarvi ma caro io a questo punto vorrei farti un'altra domanda tu che fai moda qui in Italia in particolare nel Salento ma conosci anche quello che accade fuori dai nostri confini c'è un modo diverso di interpretare la moda di fare fashion proprio all'estero rispetto all'Italia o diciamo più o meno l'ambito il modo di interpretare la moda è quello guarda fortunatamente noi italiani siamo un po' i capofila del settore quindi ce la conteniamo a volte con i cugini parigini però devo dire che abbiamo questa grandissima fortuna che gran parte del Made in Italy è riconosciuto la grandezza Made in Italy in tutto il mondo quindi un po' ci ritroviamo con il coltello dalla parte del manico nel senso che molte regole del settore vengono dettate proprio dall'Italia anche se io non una cosa che ci tengo proprio tanto è far fare delle esperienze anche all'estero ai ragazzi proprio per confrontarsi e per vedere come viene percepita poi anche la moda rispetto al settore quindi i vostri ragazzi possono anche lavorare all'estero grazie a voi? sì 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 loro lavorano fanno sia esperienze all'interno del settore partecipando anche a delle fashion week su Parigi oltre a quella di Milano parlavamo prima di Madwood con Marianne Anceli quindi sono delle esperienze formative al 100% perché gli fanno veramente mettono davanti quelle che sono poi le realtà le professionalità oltre il nostro territorio quindi diciamo e poi chi vuole spostarsi all'estero infatti noi abbiamo anche inserito un percorso di lingue lingue inglese all'interno e anche lì c'è tanta richiesta poi quando sanno che si tagliano un po' c'hai quel plus valore quindi abbiamo autorevolezza nel campo sì e dovremmo cercare di tenercelo bello stretto eh sì sì giusta osservazione allora continueremo a parlare tra poco con Carol Cordella ritorniamo alla musica c'è l'ultimo successo Salento terra di mare di sole e di grandi vini dall'amore per la propria terra che ricambia con uve di eccellente qualità nascono i vini di funiati artigiani viticoltori buoni per vocazione dal costante impegno nell'arte della vinificazione derivano vini di straordinaria raffinatezza aromi gusti e colori rendono i vini di funiati artigiani viticoltori unici e autentici da uve rigorosamente raccolte a mano nascono i vini morigine bianco rosso rosato espressione del territorio salentino dai caratteristici vigneti ad alberello e dal sapiente affinamento le due selezioni torre del cardo primitivo e passo del moro negro amaro l'esaltazione per il palato il salento che diventa vino lasciati avvolgere dalle caratteristiche esperienze in vigneto al tramonto con aperitivo e degustazione info e ordini su www.funiati.it spedizione gratuita in tutta Italia a partire da 99 euro Officine Carra qualità e affidabilità negli allestimenti di veicoli industriali grazie all'esperienza maturata negli anni e alla costante attenzione rivolta al mercato siamo in grado di soddisfare le richieste dei nostri clienti con soluzioni tecniche innovative personale altamente specializzato e materiali di alta qualità rendono i nostri allestimenti unici e garantiti Officine Carra SRL allestimento e vendita di veicoli industriali concessionario passi per la Puglia strada statale 16 chilometro 977 Corigliano D'Otranto www.officinecarra.it è arrivato il momento di sostituire un tuo elettrodomestico Ciccarese Elettrodomestici è la risposta al tuo problema da Ciccarese a Derchie potrai scegliere tra frigoriferi e tv delle migliori marche come Ariston, LG, Samsung, Philips, lavatrici Candy, Ariston, San Giorgio inoltre da Ciccarese trovi reti e materassi per ogni tua esigenza ed ogni misura da Ciccarese Elettrodomestici disponibilità di pagamenti rateali e consegni a domicilio Ciccarese Elettrodomestici via provinciale per Torre e Santa Susanna numero 140 Erbe telefono 0831 75 91 58 se stai pensando di noleggiare un'auto, un camper o un veicolo commerciale fino a 35 quintali non perdere tempo corri da Dipinto Rent scoprirai che noleggiare non è mai stato così semplice, veloce e soprattutto economico con i prezzi migliori del mercato non ci credi? vieni a scoprirlo di persona Dipinto Rent e anche vendita di veicoli ci trovi a Taranto in viale unità d'Italia 345 goditi la vita al resto ci pensiamo noi Dipinto Rent professionalità e puntualità al tuo servizio info e contatti su dipintoauto.com Dipinto Auto Freedom in Movement per la tua pubblicità su Radio.Sud chiama il numero 334 891 1807 o invia un'email a radio.sud chiocciolagmail.com radio.sud fotografiche suonano da noi sono le 20 in punto radio.sud TFA Sostegno Le prove selettive per il TFA Sostegno nono ciclo sono alle porte cosa aspetti? preparati in poche settimane con successo con Eurosofia grazie ad un corso mirato, efficace e intensivo con l'aiuto di formatori esperti per maggiori informazioni visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98 311 o il numero whatsapp 392 88 25 358 ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione buonasera dalla redazione esterina apertura di giornale la guerra regionale fra Israele e le milizie collegate all'Iran prima fra tutte gli esbollati ibanesi non è più una prospettiva ma una realtà in atto il capo politico di Hamas è stato ucciso a Teheran in una residenza che gli era stata messa a disposizione dai pas d'Aran 62 anni era a Teheran per partecipare alla ceremonia di insediamento al giuramento del nuovo presidente iraniano l'Iran promette vendetta per noi un dovere vendicare il sangue che è stato versato sul territorio della Repubblica Islamica ha affermato la guida suprema all'Yatollah il conflitto in Ucraina la Russia mostra i muscoli avviando la terza fase della sua esercitazione sull'uso di armi nucleari tattiche fase che vedrà impiegati anche i battaglioni dell'operazione speciale fa sapere il ministero della difesa russo in un comunicato questa fase delle esercitazioni prevede l'addestramento dei sistemi missilistici e di vari aerei le due fasi precedenti includevano unità dei distretti militari del sud di Leningrado delle forze aerospaziali e unità della marina ha affermato il ministero e non sarà una coincidenza se nella notte le forze russe hanno martellato l'Ucraina con uno degli attacchi con droni più massicci l'aeronautica militare di Kiev ha denunciato il lancio da parte di Mosca di 89 droni militari sottolineando che tutti sono stati abbattuti la cronaca i cellulari di Sharon Verzeni e del compagno entrambi i sequestrati saranno analizzati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo alla ricerca di elementi utili a ricostruzione delle abitudini e contatti della donna morta dopo essere stata aggredita nella notte tra lunedì e martedì a Terno d'Isola la causa della coppia è stata messa sotto sequestro così come un'auto il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale su richiesta della procura di Bergamo era mirato alla ricerca dell'arma del delitto un coltello utilizzato per colpire la donna o altri elementi di cui si potrebbe essere disfatto l'omicida andiamo a Parigi in chiusura quinta giornata dell'Olimpiadi straordinaria Silvana Maria Stanco medaglia d'argento nella finale del trap femminile con il punteggio di 40-50 si tratta della tredicesima medaglia azzurra ai giochi di Parigi con il punteggio di 40 su 50 si tratta della tredicesima medaglia azzurra ai giochi di Parigi canottaggio sugli scudi l'Italia d'argento nel 4 di coppia maschile dietro l'Olanda e davanti alla Polonia nel 2 di coppia Gabriel Soare della Senna applausi quasi liberatori al tuffo della prima treza nelle acque del fiume Parigino azzurri impegnati nel tiro a segno e a volo e nel judo è tornato in vasca Thomas Cekon nelle batterie del 200 d'orso centrando la qualificazione alle semifinali per un soffio fuori invece Matteo Restivo attesa per Simona Quadarella impegnata questa sera nella finale dei 1500 stile delusione nella sciabola squadra maschile con l'Italia eliminata ai quarti dall'Ungheria nel tennis avanza ancora Lorenzo Musetti che supera Taylor Fritz e accede ai quarti di finale del singolare maschile era l'ultima notizia grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione è il momento di ascoltare una nuova canzone a sud notizie curiosità ed ospiti in diretta con Giovanna Ciracci Radio Punto Sud Heart War Republic su Radio Punto Sud è la novità discografica di quest'ora noi siamo ancora in compagnia in piacevole compagnia di Carol Cordella che oggi abbiamo l'onore e il piacere appunto di ospitare abbiamo parlato un po' di questa bellissima realtà che è l'Istituto Cordella di quello che è stato realizzato nell'ultimo anno in particolare però Carol io oltre alla formazione vorrei parlare anche del vostro di talento come stylist tu per prima insieme anche a Manuel siete comunque due stilisti che cosa che cosa avete realizzato invece voi come proprio appunto stilisti negli ultimi mesi negli ultimi periodi allora diciamo che le collaborazioni vabbè con aziende o comunque con quelli che possono essere appunto comunque diciamo è impossibile non dedicargli un ricordo cosa pensi che lui abbia lasciato con il suo lavoro nell'ambito del fashion beh sicuramente l'attaccamento è la passione per il territorio perché papà credeva veramente tanto in quelle che potevano essere le potenzialità del territorio non solo come fasonisti o esecutori ma proprio tutta la parte creativa quindi diciamo papà su questo ha fatto veramente un grandissimo lavoro che oggi veramente ne raccogliamo i frutti e poi ovviamente tutto ciò che gira intorno a questo settore come dicevo prima appunto anche il lavorare insieme in sinergia sempre in maniera positiva è tutto merito suo e allora a questo punto prima di salutarci un'altra domanda è d'obbligo quali sono i vostri progetti per il futuro siete già pronti per riprendere state già programmando per i prossimi corsi dicci un po' Sì siamo prontissimi noi riprendiamo l'attività la prima settimana di settembre e saremo già in passerella intorno al 12 settembre con la Mediterranean Fashion Week di Mudwood dopodiché incrociamo le dita e abbiamo un grande evento che ci aspetta a Parigi a dicembre addirittura sì e beh allora poi ci terrai informati anche su questo grandissimo evento che porterete un po' di sud a Parigi in Francia porteremo un po' di calore che farà sicuramente freddo vogliamo salutare tutti i tuoi allievi che so che ci stanno seguendo quindi salutiamoli Francesco in particolare ciao Francesco vorrei salutare tutti i miei ragazzi noi comunque ci siamo sempre in contatto con questo fantastico gruppo di Whatsapp quindi ringraziarli ancora una volta per tutto quello che hanno realizzato in questo fantastico anno per il loro supporto per quello che mi danno e niente quindi godetevi ora un po' di vacanza beh se fossero presenti qui fisicamente avessero la possibilità di risponderti secondo me anche loro ti ringrazierebbero ringrazierebbero te il fantastico mondo dell'istituto Cordella tutta la tua famiglia chi ci lavora il vostro staff quindi faccio io le loro veci perché secondo me ricambierebbero sicuramente il tuo grazie allora Carol a proposito di ringraziamenti io davvero ti ringrazio di cuore non è un ringraziamento di circostanza ma veramente grazie per aver dedicato questo programma dall'ultima puntata quindi chiudiamo in bellezza qual è il miglior ospite per chiudere in bellezza davvero quindi davvero grazie perché so che hai tanti impegni quindi davvero grazie per aver trovato un po' di tempo per stare qui con noi per chi ci vuole per chi vi vuole seguire per chi magari si vuole iscrivere a qualche vostro corso come può fare? si può visitare il sito www.istudocordella.com la pagina Instagram Cordella Fashion School e noi organizziamo degli open day anche il mese di agosto dove facciamo vedere un po' l'attività e facciamo incontrare anche alcuni dei coach anche questo è interessante quindi vedi anche ad agosto poi qualcosa la fate sempre va bene grazie a Carol Cordella davvero grazie e continueremo sicuramente a seguire i vostri progetti e buon estate sì e allora cari amici è giunto davvero il momento di salutarci e io devo fare davvero un saluto enorme perché oggi è l'ultima puntata di a sud di questa stagione devo ringraziare veramente tutti ringraziamenti allo staff di Radio Punto Sud che mi ha supportata in questa stagione ovviamente poi ci rivediamo a settembre però anche per noi è giunto il momento un attimo di riposarci e che dire davvero grazie grazie anche a voi che ci avete seguiti così numerosi grazie a tutti gli ospiti che hanno dedicato un po' del loro preziosissimo tempo per raccontarci del loro bellissimo lavoro e ci salutiamo così con questa bellissima canzone di Alfa Roberto Vecchioni noi amiamo sognare quindi sogna ragazzo sogna buona serata e a questo punto buona estate buone vacanze da Giovanna Ciraci ma ci ritroviamo a settembre buona estate buona serata da Giovanna Ciraci grazie a tutti grazie a tutti